Siamo nell'area dei cantieri della Porta Nord, come vedete alle nostre spalle fervono i lavori all'interno dei vari cantieri e siamo qui con il sindaco Alberto Teso per fare un po' il punto della situazione sui vari cantieri che sono aperti in città anche perché ovviamente da parte della cittadinanza c'è l'interrogativo su come stanno andando i cantieri, quanto termineranno insomma come sta andando tutta questa serie di lavori che sono in corso. Cominciamo il sindaco proprio da questa zona della Porta Nord, ci sono già degli interventi conclusi, altri invece sono in piena realizzazione. Porta Nord stiamo andando bene, la viabilità è a buon punto, l'impresa sta lavorando secondo i tempi prestabiliti ricordo che solo di viabilità è un investimento da 7 milioni di euro a carico della città di San Donato di Piave mentre per la ex cantina che è dietro di noi e l'ex confrutta sono circa 13 milioni di finanziamento PNRR quindi solo in questa zona ci sono 20 milioni di euro di finanziamenti di lavori pubblici. Poi abbiamo le due stazioni Atvo e Ferrovie dello Stato, Atvo è praticamente terminata, Ferrovie è un po' più a rilento però i lavori proseguono e confidiamo che anche lì in tempi brevi sia tutto terminato. Noi siamo d'accordo con Atvo che per settembre, per l'inizio delle scuole, la stazione e la viabilità saranno completati quindi Porta Nord tornerà a essere perfettamente transitabile e utilizzabile sicuramente a settembre prossimo. Tra gli interventi c'è anche la viabilità che si sta realizzando che collegherà questa zona, l'autostazione con la parte dove c'è l'attuale vecchia stazione per capirci, via Baronna e poi giù lungo via Sabioni per arrivare agli istituti. Sì, lì c'è un altro intervento importante, abbiamo appena approvato in giunta la ciclabile che va dalla stazione vecchia fino agli istituti scolastici, un intervento molto importante per mettere in sicurezza tutte le persone, soprattutto gli studenti, insomma che arriveranno dalla stazione, attualmente la stazione vecchia poi dalla stazione nuova qui di Porta Nord fino all'area degli istituti scolastici, l'Alberti, l'ITIS eccetera. Sarà tutto un percorso in sicurezza separato fisicamente dalla carreggiata delle auto e anche su quello insomma a breve inizieranno i lavori. Che tempistica possiamo darci per avere la conclusione diciamo di tutto? Quello che è l'intervento forse un po' più lungo è quello delle ferrovie, il completamento della nuova stazione ferroviaria. Ora entro il 2025 la stazione ferroviaria sarà funzionante, per quanto riguarda invece i due padiglioni diciamo così l'ex cantina e l'ex confrutta, essendo finanziamenti PNRR abbiamo la deadline a giugno 2026. Ricordo che è indispensabile terminare i lavori per quella data appena la revoca del finanziamento. Quindi ci troveremo con i lavori non terminati e l'obbligo di restituire i soldi dalle tasche nostre al governo centrale. Quindi questa cosa toglie il sonno al sindaco e agli uffici comunali perché non possiamo permetterci errori. Qui ci sono lavori come dicevo prima per oltre 30 milioni di euro tra lavori nostri e lavori delle due aziende e lavori in centro per quasi un'altra decina di milioni di euro. Vuol dire che San Donà in questo momento ha cantieri aperti per opere pubbliche per circa 40 milioni di euro cosa mai successa nella storia di San Donà perché nei picchi più alti di interventi pubblici siamo arrivati ad avere al massimo 10 milioni di euro di investimenti all'anno su San Donà. Qui siamo a quattro volte tanto. Ecco il sindaco ha accennato appunto i lavori che sono in corso nel centro, la pedonalizzazione, l'ultimo stralcio di fronte alla Duomo. È stato un periodo contrassegnato da mal tempo. Tutti si chiedono come stanno andando i lavori e se ci arriviamo per settembre. Dobbiamo assolutamente arrivarci per settembre. Ho incontrato Mauro Pacifici, il titolare dell'impresa che ha vinto l'appalto assieme al nostro dirigente, l'ingegner Montebovi, la settimana scorsa. Siamo stati in sopralluogo in cantiere. Ne abbiamo fatti parecchi sopralluoghi anche di mattina presto. C'è un leggero ritardo, non grandissimo. Colpa si dello sminamento, la bomba che abbiamo trovato, le piogge frequenti. Però l'impresa non farà ferie in agosto e per settembre saremo con i lavori ultimati. Quindi Piazzetta Trevisan e Via del Campanile terminati in ogni loro parte. Ricordo che ci sono i sottoservizi che richiedono parecchio tempo. Le fognature sono state posate, adesso tocca acqua, luce e gas che richiederanno meno tempo rispetto alle fognature. Però chiedo ai sandonatesi di avere ancora pazienza. Perché poi in centro apriremo a breve il cantiere nella palestra dell'ex montale in Viale Libertà, un altro milione e 800 mila euro di lavori. Lì c'è un altro auditorium. Pare impossibile ma grazie a Dio Sandonat ha una richiesta di spazi per attività culturali enorme. Se avessimo a disposizione altri due da Vinci li occuperemo sempre. Quindi abbiamo deciso di investire lì per creare una struttura nuova da 200 posti insonorizzata per musica e teatro e espressione. E poi stiamo lavorando da un mese quasi ininterrottamente per riuscire a utilizzare il milione e 700 mila euro che è stato destinato dal Ministero della Pubblica Istruzione a Sandonat. Unico comune oltre a Chioggia e Venezia della provincia per realizzare un grandissimo asilo nido che non ha paragoni nelle vicinanze per 72 bambini. 1 milione e 7 più altri 800 mila euro li metteremo noi. Arriviamo a 2 milioni e mezzo di lavori per l'asilo nido. È un grosso intervento che ci rende particolarmente impegnati e orgogliosi. Ecco, in conclusione, Sindaco, alcuni lavori che stiamo vedendo in questa zona ovviamente nascono anche dal passato perché ovviamente c'è tutta una programmazione che dura e che va anche tra le amministrazioni. Alcuni invece li state gestendo per la realizzazione, altri li state mettendo in cantiere come quello dell'asilo di cui ci parlava. Insomma, una San Donà che è in un momento di nuovo fervore, possiamo dire così. Io credo che un momento come questo a San Donà di Piave non sia mai stato vissuto, forse dopo la ricostruzione, dopo la guerra. San Donà avrà un nuovo volto tra qualche anno. Molti di questi lavori sono stati progettati dalla passata amministrazione, quindi onore al merito. Alcuni di questi lavori noi non li condividevamo, ma in questo momento io sono Sindaco e il mio obbligo è completare questi lavori e utilizzare al meglio i fondi che ci sono stati dati. Quindi noi termineremo i lavori secondo il progetto. Stiamo ancora lavorando sulla destinazione degli spazi, non tanto per l'ex Confrutta, che è destinata ad ospitare il pollo fieristico, quanto invece per l'ex Cantina, dove la destinazione non è ancora stata decisa. Abbiamo alcune idee, ma ci stiamo ancora lavorando. Sviluppo futuro, però, vuol dire anche viabilità per dare i collegamenti. Qui nella zona della Porta Nord i collegamenti sono quelli dell'intermodalità. C'è un intervento che i sandonatesi aspettano con ansia, che è quello dello scavalco di Calvecchia per il completamento della variante alla Statale 14. A che punto siamo? L'ANAS sta facendo dei passi in avanti? Sì, qui incrociamo non solo le dita delle mani, ma, come si diceva sul topolino, anche le dita dei piedi, perché sembra che finalmente si sia arrivati al punto di svolta. ANAS ha pubblicato l'avviso per i decreti di esproprio dell'area di Calvecchia. È stato depositato sia il progetto esecutivo che quello definitivo. Io sono in contatto continuo con il Vice Ministro Galeastro Bignami, che era stato anche qui, era venuto in sopralluogo dell'area. Mi ha comunicato un mese fa che sono stati destinati altri 2 milioni e mezzo per l'opera a causa dell'aumento dei prezzi intervenuto negli anni, che ammonterà adesso a 19,7 milioni di euro per lo scavalco di Calvecchia. ANAS ci ha confermato ieri, ho incontrato l'ingegner della Grenellè, che è il dirigente per l'infrastruttura del Veneto, ha confermato che andranno in gara a luglio, consegna dei lavori a ottobre e se tutto va bene, fine anno per Natale avremo l'inizio dei lavori per lo scavalco di Calvecchia. Punto essenziale per la viabilità e anche per dove siamo adesso, perché poi gli autobus da qui arriveranno direttamente lungo canale navigabile ai Martiri delle Foibe, via Martiri delle Foibe, da lì ponte Scavalco di Calvecchia, ponte dei Granatieri e arriviamo già in direzione forse della futura autostrada del mare, ma comunque in direzione delle spiagge e di Mestre del Grande Collegamento. Resta l'ultimo stralcio e l'ANAS ha confermato che c'è intenzione di completare l'opera entro breve, quindi qualche anno, perché per l'ANAS breve vuol dire qualche anno, cioè la parallela a via Armellina, quindi l'ultimo stralcio che collega la rotatoria di Passarella alla rotatoria di Caposile. Completato quello, tutta l'attuale statale 14 diventa strada urbana, un punto che ci preoccupa è che ci passeranno anche il ponte, quindi il ponte della Vittoria diventerà di proprietà dei comuni di Sandonà e Musile e questo ci richiederà un impegno ulteriore, perché ad oggi è dell'ANAS e la manutenzione è loro. Però insomma noi confidiamo che a breve tutta la variante, la circonvallazione a nord, venga completata e Sandonà potrà vivere all'interno una rete urbana nuova e vivibile e molto più tranquilla e serena. Grazie.